Ciao ragazzi! Volete migliorare il vostro juggling? Con questo corso we're going to go from three to four balls, da tre a quattro palline. All'inizio dovete solo essere capace di fare il three ball juggling con tre palline. Al fine del corso siamo tutti in grado di fare con quattro palline così. Ma non solo questo, perché durante il corso noi lavoriamo soprattutto sulla simmetria. Volevamo essere in grado di usare la mano destra esattamente come la mano sinistra. E questo troverete che durante il nostro percorso impariamo anche altre cose con le tre palline. Tipo questi tricks qua diventano sempre più facili e più bello. Allora, venite con me e prendiamo il nostro juggling al prossimo livello.